Il sindaco sceriffo Mi sento un sindaco sceriffo, sì, bisogna essere anche sceriffi perché la sicurezza devono farla anche i sindaci, così come nel vecchio West. Gli sceriffi e i kit Carson. La damigiana era il simbolo di quella raccolta a fondo che abbiamo fatto per Campello, un meccanico che improvvisamente si trovò un ladro in casa, gli sparò dietro, aveva paura di essere accusato di eccesso e di legittima difesa, invece io portai tutta la gente in piazza. La città si schierò appunto a difesa del nostro meccanico perché anche se sparò due colpi di fucile, questi colpi furono indirizzati al sedere del ladro. In Italia dovremmo affrontare prima o poi la questione in modo più serio della prostituzione. Si devono creare dei luoghi di tolleranza controllati dai comuni, dallo Stato, dalla sanità e dove finalmente si pagano in modo regolare le tasse. Ciao comandante, magari se mi mandi due agenti qua in municipio è il decreto Maroni che ci ha permesso di usare queste ordinanze piuttosto severe. Ho usato a piene mani queste armi, queste ordinanze. Ciao, così vi faccio vedere come sono le nostre dotazioni. Buongiorno. I miei vigili hanno accettato di fare anche il turno notturno. Vigili che sono stati attualmente armati con pistole, con spray, quello urticante. Siamo passati da 2 milioni di euro quasi di multe a quasi quest'anno forse 250 mila euro, però i cittadini sono molto più felici. Il nostro bilancio è un po' piange, 100 milioni di euro è l'IRPEF che tutti noi moglianesi ogni anno paghiamo a Roma. Quest'anno nel bilancio del sindaco di Mogliano Veneto ne rientrano da Roma solamente 4,6. Una previsione del prossimo anno, questo ritorno da Roma a Mogliano sarà ulteriormente ridotto a 3,7 milioni. Quindi è un fiume di denaro che dai nostri territori arriva a Roma e non torna più indietro. Cazzo, se non tre parate, poi mi canoffe della lista. Attualmente la lista civica è il primo partito in città con ben oltre il 20% dei voti. governa la città insieme con la Lega Nord, il secondo partito di Mogliano ed insieme solamente con due liste abbiamo ottenuto al secondo turno ben oltre il 60% dei voti. In passato c'è stato un periodo in cui ho fatto per un breve periodo il sindaco anche con una coalizione di sinistra, una coalizione che metteva insieme tutta il centro-sinistra. A quel tempo a livello locale la sinistra lanciò un'idea che era quella delle primarie. Abbiamo sbaragliato tutti i candidati che erano appoggiati dai grandi leader nazionali, così tutto il centro-sinistra ha avuto l'obbligo di appoggiare questa civica e questo strano sindaco. Questa è una Lega che chiamo 2.0, quella più moderna, quella rappresentata da Luca Zaia, quella che dà risposte un po' a tutti i cittadini che sono residenti da anni nella nostra città. Ecco, adesso per riprendere anche gli altri, buongiorno signori, buongiorno, buongiorno.